Ciao ragazzi, bentornati sul canale, video brevissimo, stasera facciamo un accoppiamento tra l'esche e la radio. Questo accoppiamento si fa all'inizio, la prima volta che configurate un'esche, per quello che riguarda questo accoppiamento serve per darvi il centro perfetto, l'accelerazione perfetta al 100% premendo il grilletto e la retromarcia perfetta, cioè portata al 100% in base al vostro radio. Così non avete una configurazione che portate magari l'acceleratore al 100% ma sull'esche non è al 100%. Con questo metodo noi portiamo tutto alla perfezione. Ok? Procedura semplicissima. Andiamola a vedere al volo. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente premere il pulsante sull'esche e andiamo a dare corrente. Ok, la macchina sta facendo... si dovrebbe sentire, vedete che comunque va in accelerazione. Allora, adesso devo andare a lasciare il punto 0, che il punto 0 sarebbe grilletto non premuto, ok? Vedete che io non sto facendo nulla e vado a premere di nuovo l'esche sulla... il pulsante sull'esche. Ok. Seconda cosa che dobbiamo andare a fare è accelerare completamente, quindi tenete il grilletto dell'acceleratore al massimo e andiamo a ripremere un'altra volta questo pulsante sull'esche. Ha lampeggiato due volte l'esche, quindi vuol dire che ha preso il comando. Adesso andiamo a frenare completamente, quindi il grilletto ha portato tutto in... scusate, in retromarcia. Andiamo a ripremere il pulsante, lampeggia tre volte il led sull'esche, lasciamo tutto e la procedura è finita. A questo punto noi dove abbiamo portato la regolazione del grilletto con accelerazione massima e l'esche ha preso la posizione esatta. Lo 0 perfetto, quindi grilletto rilasciato, cioè che non stiamo facendo nulla e la retromarcia al 100%. Ok? Procedura semplicissima. In questo caso io il pulsante ce l'ho qua, ma questa procedura va bene per ogni ESC, se non vengono date delle istruzioni diverse sull'esche stesso. Ok ragazzi, anche questo video è brevissimo perché è una procedura molto semplice. Continuate a scrivermi dubbi, curiosità o domande su quello che sono video che vi potrebbero interessare. Vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!